Grazie a tutti. La donna di 50 anni è stata trovata priva di vita nella prima serata di ieri intorno alle 20 nel suo appartamento nella zona di via Riccardo Di Giusto a Udine. A fare la drammatica scoperta è stato il figlio che ha chiamato subito il numero unico per l'emergenza 112 sul posto. I sanitari che hanno tentato il possibile per rianimare la cinquantenne, inutile purtroppo il loro intervento, la donna è stata dichiarata deceduta e la salva messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura disporrà l'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso, ma si tratterebbe di morte naturale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Udine. Una colonna di fumo si è elevata alle prime ore dell'alba per un'auto in fiamme attorno alle 5 di oggi a Lignano, lungo corso degli Alisei, all'incrocio con Via dei Fiori. A prendere fuoco una vettura che era posteggiata a bordo strada e dopo l'allarme sono intervenuti i vigi del fuoco del distaccamento di Lignano che hanno domato le fiamme. Nessuno è rimasto ferito, le cause sono in corso di accertamento. È una famiglia finita fuori strada con l'auto nella notte, vettura gomme all'aria. L'incidente è accaduto intorno a mezzanotte e mezza a Maniago, a quell'ora. Infatti i vigi del fuoco del distaccamento di Maniago sono intervenuti sulla provinciale 19, sulla rotonda che dal centro sportivo porta al ponte Giulio Nuovo. L'autovettura, per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri, è uscita di strada capovolgendosi. Gli occupanti del veicolo di nazionalità ganese sono usciti autonomamente riportando lievi ferite. I vigili del fuoco hanno provveduto a prestare i primi soccorsi e ferite, successivamente a mettere in sicurezza la vettura sul posto anche il personale sanitario. E a mezzanotte la centrale operativa di Udine di Mondialpol ha ricevuto una segnalazione di allarme da parte del Consorzio Grado di Fiumicello di Via Trieste. Dal sistema di videosorveglianza si notava infatti la presenza di un intruso, il tempestivo intervento di una pattuglia e la rapida gestione della centrale operativa hanno fatto sì che il furto venisse sventato e sul posto sono successivamente intervenute le forze dell'ordine. Sono oltre 142 mila gli studenti del Friuli Venezia Giulia pronti a tornare sui banchi di scuola dopo la pausa estiva. In regione la via ufficiale delle lezioni è previsto per domani e secondo i dati dell'ufficio scolastico regionale riferite agli istituti statali i bambini che in questo nuovo anno scolastico frequenteranno la scuola dell'infanzia saranno 15.173 per la primaria, 47.172. Domani la prima campanella suonerà anche per 30.866 ragazzi delle secondarie di primo grado e per 49.507 studenti delle secondarie di secondo grado. Gli istituti statali della provincia di Trieste accoglieranno in tutto 23.755 alunni, a Udine 62.592 nel Povenonese e 39.173, infine la provincia di Gorizia dove sono attesi sui banchi 17.198 alunni. Un tavolo regionale attorno al quale sedersi per discutere sul futuro della ferita di Servola e trovare una soluzione per le centinaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto in caso di dismissione dell'area a caldo. E' quanto chiedono sindacati confederali e lavoratori dello stabilimento triestino di proprietà del gruppo Arvedi scesi oggi in piazza a Trieste davanti alla sede della regione. In centinaia con bandiere e fischietti stanno attendendo in presidio gli esiti di un incontro in corso tra una delegazione di FIOM, FIM, CGL, Cisle Will e il presidente delle future venezia Giulia Fedriga con gli assessori Fabio Scocci Marro, Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen. Chiediamo un tavolo regionale, dice Marco Orelli, per arrivare a un nuovo accordo di programma. In caso di dismissione dell'area a caldo servono tempi, metodi e soluzioni, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione. Se si va al Mise senza un contenuto deciso sul territorio si rischia di essere una delle circa 150 pratiche aperte al Ministero. La cosa positiva è che avremo l'incontro col Mise e tutto il resto è da costruire, ha detto poi Franco Palman, rappresentante Wilma, aggiornando i lavoratori della feriera di Servola che appunto sono in presidio davanti alla sede della regione a Trieste. Dicevamo domani avvio dell'anno scolastico e con la prima campanella avrà il via anche per Friuli Doc. E con questi due eventi la pazienza degli automobilisti in ingresso a Udine potrebbe essere messa a dura prova per diversi cantieri. Possibili disagi al traffico nell'Interland udinese nei prossimi giorni. Da domani, giovedì, con il ritorno degli studenti sui banchi di scuola e l'inaugurazione di Friuli Doc, l'asse viario che dà accesso da nord a sud al capologo Friulano sarà messo a dura prova. L'inizio dell'anno scolastico e l'avvio della storica manifestazione enogastronomica coincidono infatti con la partenza di due importanti cantieri in città. Oltre alle ripavimentazioni nato in via Mercato Vecchio e via Quileia, con il conseguente spostamento dei bus su Viale Ungheria, ieri mattina sono infatti iniziati i lavori per la nuova asfaltatura di via Marsala. Il cantiere che da via Meleniano arriva a via della Cernaia durerà circa una settimana e prevede la chiusura necessaria del sottopasso di Viale e delle Ferriere. Saranno inevitabili dunque le code e le congestioni che si formeranno per chi arriva o vuole raggiungere la zona del Gervasutta e del Partidor. Nonostante le coincidenze, i lavori purtroppo non erano procrastinabili, ha spiegato il vice sindaco Loris Michelini, che invita la cittadinanza a usare via Lumignaco e via Le Palmanova. Il sottopasso, ha aggiunto, sarà riaperto non appena possibile in modo da limitare al massimo le deviazioni. Ma se la pazienza degli automobilisti in ingresso da Udine Sud sarà messa a dura prova, non meno facile sarà l'ingresso a Udine per i conducenti in arrivo da nord. È partita questa mattina infatti la riasfaltatura del manto stradale di via Nazionale nel tratto di competenza del comune di Tavagnacco. Il cantiere avviato da FWG strade prevede blocchi semaforici e sensi unici alternati dal grande snodo viario che interconnetta la tangenziale est con la Pontebana fino alla nuova rotonda della metro. Il Cavalcavia e il Cavalcaferrovia Pertini di Udine sono al centro di un'importante opera di miglioramento urbano grazie a un accordo che è stato raggiunto tra il comune e l'azienda Solari. Dettagli nel servizio. Approvata la bozza della convenzione pubblico-privata tra il comune di Udine e la società Solari che riguarda la riqualificazione delle aree sottostanti il Cavalcavia Sandro Pertini. Non ci saranno costi a carico del municipio perché l'impegno economico sarà sostenuto dall'azienda. La Solari aveva chiesto già al mese di marzo dell'anno scorso di poter collaborare col comune al fine di rendere operativa quella che è un po' l'abelimento della città. In questo caso sotto il Cavalcaferrovia che si chiama Sandro Pertini-Viale Cadore che attualmente viene usato in maniera impropria da parte di camper, auto abbandonate, tir, c'è di tutto. Gli interventi regaleranno un nuovo volto a questa zona della città con nuovi cordoli, marciapiedi e con la piantumazione di alberature e aiuole. E quindi questa parte sotto il Cavalcaferrovia va a completare un po' il decoro della città. Poi mancherebbe un altro pezzo dall'altra parte che stiamo cercando di trovare un accordo con un'altra dita che ha interesse appunto in loco per far sì che venga abbellita quel tratto della città di cui abbiamo già fatto i due marciapiedi, via Pieri per esempio è nuovo, se voi vedete è stata una bella cosa, è stato costruito di recente, è rimesso a posto. Via Le Cadore è la stessa cosa che stiamo facendo sul marciapiede, adesso stanno lavorando i piedi del cotonificio per rifare l'asfalto. E al centro di un nuovo progetto del comune di Udine c'è un appartamento del Palazzo Moretti confiscato anni fa dopo un'operazione antimafia. Siamo con l'assessore del patrimonio Francesca Laudicina che ci spiega un progetto relativo a un alloggio nel prestigioso Palazzo Moretti. Si tratta di un progetto che verrà fatto con l'Istituto Marinoni che riguarda un immobile che è arrivato al comune tramite confisca per reati di mafia e quindi questo immobile per poterlo poi nel progetto con l'idea di poterlo destinare a farlo diventare una residenza protetta. Al momento questo immobile è locato però naturalmente essendo arrivato al comune di Udine attraverso confisca i canoni di locazione sono già vincolati per finalità di tipo sociale. Il progetto verrà portato avanti dagli studenti appunto dell'Istituto Marinoni che sono quelli che hanno le competenze per poterlo fare e per portare avanti l'educazione alla legalità e nello stesso tempo per dare la possibilità agli studenti di uscire diciamo dalle mura scolastiche. È pronta a partire la stagione teatrale di Gradisca di Sonzo e tra le varie novità c'è anche il rinnovo dell'accordo con i teatri locali assieme a quelli sloveni. È pronta a partire la stagione teatrale di Gradisca di Sonzo. Varie le novità tra tutte la rinnovata convenzione con alcuni teatri locali compresi quelli di Nova Gorizza. Sono dieci spettacoli di grandissima qualità, otto dedicati alla prosa e due dedicati alla danza. A giorni sarà presentato il progetto Teatro in Rete dove appunto ci sarà, che è nato da questo protocollo e che produrrà un flyer che sarà uno strumento molto efficace perché chi lo desidera potrà poi diciamo avere sotto mano tutta la programmazione artistica di questi teatri e quindi molto importante anche perché poi gli spazi e i teatri sono in città abbastanza vicini e sono facili da raggiungere. Anche in questo settore siamo un po' attrattivi per il territorio circostante, c'è anche molto scambio di spettatori tra il nostro teatro e altri teatri qui vicini e in generale il nostro territorio, i nostri cittadini sono veramente virtuosi per il consumo culturale e quindi come amministrazione comunale non possiamo fare altro che continuare a offrire questo tipo di contributo anche alla crescita della nostra comunità. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo con l'informazione, con gli approfondimenti e collegamenti in diretta nell'appuntamento quotidiano con A voi Lalina. Grazie per averci seguito, intanto buon pomeriggio. Grazie a tutti.